Power Skin Carbon Flex Power Skin Carbon Flex edizione speciale per Kazan 2015 offre un'ottima compressione ed è privo di cuciture laterali. Dà una grande spinta in fase di subacquea e partenza e offre una maggiore libertà di movimenti. Ha delle spalline davvero confortevoli e questo mi rende più libera nei movimenti nonostante affronti chilometri e chilometri. Grazie per la visione!